La famosa inchiesta i bambini ci guardano non si ferma. Oggi siamo capitati per caso in una bella spiaggia. Ehi, bambini! Tra questi prodotti per mantenersi in forma, secondo voi... Ma dove è Aldo? Qual è il più buono? Questo! Io amo! È incredibile! Anche se è magro, vince lo stesso. Mi! Io amo! Allora, un bel agio! Abbiamo scientificamente dimostrato che per questi bambini Yomo Magro 01 è il prodotto per mantenersi in forma più buono che c'è. Come Yomo, c'è solo Yomo.